Allora, l'ho fatta personalmente io. Io non ho scelto la canzone perché c'era Morgan, ho scelto la canzone perché mi piaceva la canzone. Quella canzone l'avesse cantata solo Bugo o solo Morgan, ma la canzone ho detto che l'abbia scritta Bugo, quindi l'avrei presa ugualmente. Quindi io ho scelto quella canzone perché mi piace quella canzone, la cantano Bugo e Morgan. Mi incuriosiva questa coppia perché io conoscevo Bugo, conoscevo Morgan, ma sono talmente diversi stilisticamente, fisicamente, vocalmente. Mi piaceva questa unione e l'ho preso. Certo che se uno però dice che Morgan potrebbe essere un personaggio che potrebbe creare, tu vai a fare, escludi una persona capace già prima. Io do sempre una chance, nel senso che non credo che debba escludere prima di quello che potrebbe accadere un personaggio solo perché è Morgan. Per me Morgan era e rimane un assoluto talento e quella canzone per me, ripeto, come le altre 23, è bellissima. Quindi scelgo in base alle canzoni, non pensando a ridurre il rischio.